Binance Coin ti renderà ricco! Ciao ragazzi e benvenuti a tutti in questo nuovissimo video! Oggi parliamo di BNB ma mi raccomando ragazzi guardate questo video fino alla fine perché ovviamente ci saranno punti bonus dove tantissime persone si dimenticano di chi è veramente BNB Detto questo vi invito a iscrivervi al canale, di attivare la campanella delle notifiche per non perdere gli ulteriori contenuti del genere Mi raccomando iscrivetevi anche e soprattutto al canale Telegram dove sto portando tanti metodi di guadagno Mi raccomando ragazzi! Allora vediamo qui comunque che il prezzo di BNB è di 292 dollari Vediamo che la capitalizzazione di mercato è bassissima, 47 miliardi di dollari Non la vedo così veramente da tanto ma tanto tempo Negli ultimi due anni è difficile praticamente vedere un token, una moneta di questo livello che è scesa veramente tanto Non dimentichiamoci che comunque ha raggiunto quasi due volte il massimo di 700 euro Quindi non è roba da poco Allora in questo caso Binance è la criptovaluta ovviamente emessa dal proprio exchange Binance Il più grande asset digitale al mondo Infatti registra tra i 4 e i 12 milioni di transazioni al giorno Questo marketplace fu fondato nel 2017 da CZ Un noto sviluppatore che già in passato creò un software per il trading ad alta frequenza Ovviamente agli albori la sede si trovava in Cina Ma fu spostata successivamente alle Kakaman per via della stringente politica del paese Nei confronti del settore cripto La cripto Binance BNB inizialmente era basata sul network di Ethereum token RC20 Tuttavia oggi è centrata sulla blockchain smart chain L'asset digitale si posiziona praticamente nella top 5 delle cripto Con il valore di mercato più alto E per tal motivo attrae su di sé un numero di investitori in continua crescita Poi vi farò vedere anche come guadagnare, come acquistare soprattutto BNB E ovviamente andare a risparmiare per quanto riguarda sulle commissioni Detto questo comunque che cosa serve Binance Coin? Lo scopo originale di BNB è quello di essere un utility token Utilizzato per diminuire le commissioni di trading addebitate sull'exchange Ma il ventaglio di applicazione è aumentato di volta in volta Tra questi rientrano i pagamenti on-chain, sulla smart chain E i servizi online di intrattenimento, finanziari, prenotazione, crowdfunding, eccetera Poi processo per le azioni e il regolamento soprattutto delle stesse Pagamento delle commissioni per le transazioni, trading, cambi, eccetera Su Binance Com, Binance Dex e Binance Chain Prenotare e pagare viaggi Travelbybit, trip.io e travela.com Fare investimenti e avere prestiti E soprattutto fare beneficenza Una funzionalità molto a molto interessante è il launchpad di Binance Tramite esse è possibile partecipare a nuovi progetti Ossia al lancio di nuovi token Offrendo agli utenti interessi e un cesso diretto In cambio dell'impegno temporaneo della crypto Binance posseduta L'introduzione di tale opportunità ha portato grande traffico Ma veramente tanto sul suo network Con il conseguenziale aumento di valore di BNB Poiché avendo in wallet, praticamente, delle Binance Coin Sarà possibile ottenere nuove valute al prezzo di emissione Così da poter beneficiare degli eventuali incrementi della quotazione Poi il numero per quanto riguarda delle monete BNB ammonta vicino a 200 milioni Ma ogni tre mesi la società praticamente usa un quinto dei propri profitti Per il programma di riacquisto al fine di bruciare Quindi in questo caso vanno a bruciare anche dei token Ho appena visto che non ti sei iscritto al canale Che cosa aspetti? Attiva la campanella Iscriviti al canale E soprattutto guarda i nostri contenuti Perché ne vedrai veramente delle belle Mi raccomando In modo ovviamente di sì Tenere praticamente il valore dell'asset digitale Ma comunque avere sempre la possibilità di guadagnare Sempre ma sempre di più In realtà i 200 milioni BNB sono stati già preminati e remessi Quindi non ci sono praticamente altre monete da minare e creare Pertanto vorrete entrarne in possesso solo rivolgendovi al mercato secondario Ovvero tipo comprandoli da qualcuno L'allocazione iniziale è stata lanciata così suddivisa Il 10% agli angel investor Ossia agli investitori informali Questi sono dei soggetti privati che forniscono capitale di rischio A un progetto, a un'impresa nascente Diventandone a tutti gli effetti dei soci Il 40% al team fondatore E il 50% alla parte restante del mondo Ovviamente la curazione BNB varia ogni istante Ma al momento la sua capitalizzazione si trova comunque nella top 5 del crypto E top 3 in questo caso delle crypto Perché comunque due sono le stable coin E in questo caso comunque capire bene Che conviene sempre e soprattutto andare a investire in BNB Questo perché diciamo che comunque si danno sempre da fare per il bar delle monete Poi sappiamo tutti che l'exchange comunque sta trovando veramente veramente tantissime Diciamo possibilità comunque di farsi conoscere in tutto il mondo Vediamo che ultimamente, durante che sto registrando questo video C'è comunque la partnership con The Weeknd Noto cantante Quindi capire bene comunque rilasciando questo partner Che tutte queste news ineretti a BNB ovviamente possono solamente far bene Se andiamo a vedere ovviamente il prezzo massimo che può diciamo uscire con BNB Sarebbe di 3500 Quindi in questo caso comunque superiore al 3500 dollari ragazzi viene completamente difficile Ovviamente bruciando, bannando delle monete c'è la possibilità di andare comunque ad aumentare questo prezzo Ma come si può investire in BNB? Come sempre ragazzi c'è Atani, la piattaforma All in One Dove noi possiamo andare ad acquistare, vendere, scambiare criptovalute Vediamo comunque che in questo caso se andiamo ad acquistare BNB tramite ovviamente l'exchange di Binance Vediamo che c'è il 10% di sconto E in questo caso ve lo consiglio perché comunque sono sempre soldi risparmiati Ovviamente per collegare serverebbe il codice API, la chiave segreta E poi facendo tutto questo dovete abilitare il trading spot e potete comunque andare ad acquistare Binance Vi lascerò anche il link del video sotto in descrizione così magari potete capire meglio come andare a settare Atani Ragazzi questa è la piattaforma del futuro dove tutti gli exchange al suo interno Ovviamente poi c'è anche e soprattutto la possibilità di andare a risparmiare Vediamo che ora ci saranno comunque ulteriori aggiornamenti per quanto riguarda ulteriori exchange Detto questo ragazzi che cosa farete? Investirete in BNB? Io personalmente sì Detto questo vi invito a iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche Per non perdervi ulteriori contenuti del genere Noi ci vediamo domani con un prossimo video